La scienza non è identificabile con delle persone, la scienza è un metodo, è il metodo del confronto, anche nelle questioni della guerra, come diceva prima Alberto Contri, cioè qualcuno dice che sotto quell'edificio ci siano degli interrati, addirittura chilometri e chilometri dove si possono nascondere, se ci sono varie testimonianze, se ci sono voci piuttosto insistenti che lo dicono, la prima cosa che si dovrebbe fare è andare a controllare, no Alberto? Tu questo dici, andiamo a vedere e non far passare nei mezzi del mainstream il principio che no, non c'è nulla, a prescindere, oppure Biden cerca di dare la mano a qualcuno che non esiste, probabilmente se l'hai sognato, perché ha degli evidenti problemi che poi magari Alessandro ci spiegherà. Piuttosto volere che muoiano, volere che muoiano piuttosto che parlino, e questa è la cosa grave. Esatto, e questa è una cosa grave. Non è possibile che Zelensky voglia fare del male ai propri concittadini, ma stamattina ne ho sentita un'altra, non mi ricordo più chi, un illustre commentatore che ha detto che addirittura quello che è successo nel Donbass negli ultimi 8 anni era tutto frutto della propaganda russa, ma vi rendete conto, 14 mila morti e tutte le torture al popolo filorusso del sud, del sudeste dell'Ucraina, propaganda. Vabbè, allora ragazzi, diciamo che vale tutto, quando tu fai un gioco e dici va bene, vale tutto, non c'è più nessuna regola. Ma in genere quello che ci hanno insegnato da piccoli è che non può valere il principio del buono e del cattivo a tutti i cosi, cioè tutti i buoni da una parte e tutti i cattivi dall'altra. Questo è un principio che non esiste, nella storia. Alessandro, tu che sei uno psichiatra, poi presentiamo un po' di giovani, perché qui ci sono un po' di giovani ai quali vanno date delle risposte. Purtroppo esiste nella storia, perché senza cadere in forme di determinismo un po' paleomarxista, il motore della storia è duplice. Da una parte c'è un motore potentissimo che è l'economia, perché senza volere cadere nel quarto libro nel Capitale o dei manoscritti economico-filosofici, quello che è sicuro è che la parte strutturale, cioè la struttura economico-produttiva monetaria dell'individuo e delle società è il motore principale. Poi naturalmente non c'è solo quello, perché come dicevo un vecchio leader politico, la gente vota con una mano sul portafoglio, ma anche con una mano sul cuore. Quindi c'è la componente legata ai miti, alle culture, alle identità, alle religioni, all'aspetto psicologico-empatico della vita, ma quello economico tende ad essere prevalente. La partita che è in atto è una partita di menzogne, come hanno detto bene adesso Vanni e Alberto, ma è anche una straordinaria partita di tipo economico, anzi addirittura di tipo psicoeconomico. Perché da una parte c'è la dittatura di una moneta iper svalutata, al quale non corrispondono più fondamentali dell'economia, né riserve energetiche, né riserve aurea che il dollaro e dall'altra c'è una zona di mondo che peraltro ne è la maggioranza umana, che include la Cina, la Russia, sud-est asiatico, l'India, l'immenso sul continente indiano, grande parte dell'America Latina e che intende cercare di produrre anche dal punto di vista economico e monetario un sistema multipolare. Questo è il vero tema della guerra.